Ciao amici! Sapete cosa mi chiedono spesso come naturopata esperta di dimagrimento naturale? Ti far sparire il grasso con un colpo di spugna. La domanda è perché non riesco a dimagrire? È una questione di metabolismo. Ecco allora i miei tre segreti più efficaci per attivare il metabolismo in modo naturale e iniziare a vedere subito dei miglioramenti. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Alimentazione. La prima cosa da fare è mangiare i cibi giusti e seguire un'alimentazione specifica con una elevata quantità di proteine, grassi buoni, fibre e una ridotta quantità di zuccheri. Anche se non riesci a ridurre del tutto gli zuccheri e i carboidrati, l'importante è introdurre in ogni pasto questi tre tipi di alimenti. Proteine. Le proteine possono essere vegane a base di soia o di legumi oppure carne o pesce, ma non di allevamento intensivo, meglio salmone selvatico, pollo allevato a terra, carne bovina da animali che hanno mangiato erba e non mangime sintetico, oppure polveri proteiche ad alta concentrazione come quelle che ho introdotto in questo video. È stato dimostrato che le proteine sono fondamentali per perdere la massa grassa e mettere su massa magra, cioè muscolo, che sostiene il metabolismo. In Italia la nostra alimentazione è troppo basata su carboidrati, a colazione, pranzo, cena, spuntini. Bisogna introdurre più proteine, ma non proteine animali tre volte al giorno. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Grassi sani. Per attivare il metabolismo bisogna inserire grassi buoni e non mangiare solo fat free. Quindi vai con frutta secca, avocado, oli vegetali o burro chiarificato che spiego come fare in questo video. Fibre. Il terzo cibo necessario a stimolare il metabolismo sono le fibre che troviamo nei semi di lino, semi di chia, noci, mandorle, frutta e la verdura. Servono a farti sentire sazio più a lungo, assorbire meno i grassi e gli zuccheri e aiutano a perdere peso. E il secondo segreto? Due. Esercizio fisico. Se vuoi accendere il fuoco del tuo metabolismo devi fare esercizio fisico. Un recente studio americano ha dimostrato che un training alternato con esercizi cardio e di potenza brucia 10 volte più grassi di un esercizio costante, anche cardio, su lunghe distanze. Fare un allenamento misto con 30 secondi di cardio e 30 secondi di potenza alza molto il metabolismo. E il terzo segreto? Tre. Ridurre lo stress. Lo stress emotivo e la mancanza di sonno aumentano il cortisolo, riducono la melatonina e disturbano gli ormoni che aiutano la perdita di peso e il dimagrimento. Così il metabolismo si blocca. Dormire otto ore ogni notte e ridurre lo stress ogni giorno con un po' di meditazione sarà utile per attivare il metabolismo e ottenere risultati visivi di presto. Per conoscere tanti altri trucchi e consigli per dimagrire in modo sano e naturale basta iscriversi al canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ciao!